E tra le feste patronali più sentite e partecipate nella provincia di Taranto è la festa della Madonna della Neve, protettrice di Crispiano. I fedeli del luogo, ma anche quelli dei comuni limitrofi, sono molto devoti a questa Madonna miracolosa. Come da tradizione, dopo la messa, la consegna delle chiavi alla statua da parte del sindaco e a seguire la processione. Quest'anno a Crispiano, nella stessa serata, due vescovi in paese, Monsignor Fragnelli, crispianese, attuale vescovo a Trapani, e Monsignor Santoro, che guida la diocesi di Taranto. Monsignor Fragnelli ha voluto sottolineare proprio questo grande senso di appartenenza che caratterizza la comunità di Crispiano. Ascoltiamo. Le radici vanno curate, vanno curate con questi rapporti, almeno queste sono occasioni importanti. Io sì, davvero vivo l'appartenenza, sento la mia infanzia quando sono qui e sento anche il mio ministero, prima come sacerdote della diocesi di Taranto, poi come vescovo di Castellaneta. E devo dire che tutto questo mi ha preparato ad essere anche vescovo in Sicilia.